Ciao a tutti e benvenuti al mio video di prime impressioni, che è un video che vuole esservi d'aiuto per capire se Bleak Fate for Second fa per voi o se è un gioco proprio da completamente schippare. E oggi, come avrete visto dal titolo, parlo di un gioco che mi ha ricordato Baldo. E se non lo sapete, io non sono un particolare estimatore di Baldo, perché è uscito con dei grossi problemi. Bene, anche questo titolo, purtroppo, è uscito con dei grossi problemi. Nonostante abbia un potenziale enorme, si vede proprio che è fatto con il cuore, ma è pure fatto col culo. Perché ci sono dei grossi problemi? E ne parleremo, ovviamente. Inizio dicendovi subito che il gioco è praticamente in uno stato quasi di alfa, nel senso che ci sono tanti problemi tecnici, e loro li stanno risolvendo adesso. Stanno uscendo delle patch praticamente ogni giorno per cercare di risolvere i problemi, il che è ovviamente ottimo. Loro comunicano tanto, anche sulla loro pagina Steam, quello che stanno facendo. Ma comunque, io vi consiglio di aspettare qualche settimana e vedere come vanno queste patch che stanno facendo, nel caso vogliate acquistare il gioco. Non lo acquistate subito, aspettate. Io ve lo porto in live, lo sapete, vanno in live su Twitch praticamente tutti i giorni, trovate il link in descrizione. Quindi io ve lo porterò in live. Se volete potete passare in live a vederlo. Oppure andate sul canale di gameplay, il canale verde Professor Quarzo Gameplay, e trovate anche le live ricaricate. Ho ricaricato la prima live di circa tre ore sul gioco. E quindi potete vederlo con i vostri occhi. E devo anche dirvi un'altra cosa. In molti si chiederanno se questo è un Souls-like. Io vi dico che secondo me non è un Souls-like, e vi spiego anche rapidamente perché. È un GDR d'azione impegnativo. Quindi è un po' difficile nel combattimento, ma non è un Souls-like. Mancano le anime, ad esempio. Voi sapete che le anime sono una parte fondamentale di un Souls, no? Perché il level up è legato alle anime, eccetera. Bene, qua il level up non c'è nemmeno. Ci sono un sacco di armature che possiamo... Un sacco di armature e di armi anche che possiamo potenziare, raccogliere, e quindi la progressione c'è da quel punto di vista. Ci sono anche dei talenti che possiamo sbloccare, però tutto ciò non è connesso all'avere delle anime con noi, ok? Quindi non ci sono... non c'è una valuta simile a quella delle anime, che rappresenta sia appunto esperienza che moneta all'interno dei vari Dark Souls. Anche Elden Ring, Bloodborne, eccetera. Parliamo adesso un attimo dei pro e dei contro del gioco. Perché questo gioco, come vi ho detto, ha un potenziale enorme e ci sono dei pro, dei motivi per i quali io vi dico aspettate qualche settimana perché c'è la possibilità che poi diventi un gioco molto interessante. Il primo pro è l'atmosfera. Anzi, è l'unico pro, ma poi si declina, vedremo, in varie... in varie elementi, insomma, questo pro. L'atmosfera, secondo me, è fantastica. C'è uno stile artistico molto particolare che mescola Dark Fantasy, quindi l'ambientazione simile medievale alla Dark Souls, diciamo, con un'ambientazione invece, ma anche proprio una lore di gioco sci-fi, ok? Quindi abbiamo queste due anime che convivono e sinceramente hanno fatto un bel lavoro, nel senso che convivono bene, ok? Non è che sono forzate, non sembrano cozzare l'una con l'altra, cosa che invece immaginavo potessero fare quando ho, per la prima volta, sentito del gioco e ho visto delle immagini del gioco. Le ambientazioni sono molto, molto particolari, sono un po' alienanti e quando la telecamera gira per, insomma, qualsiasi spazio in cui noi siamo si ha una grande impressione di vastità proprio che è davvero stupefacente. Cioè, sembra di stare in un posto enorme e che dici, ma come farò a esplorarlo tutto? Specialmente quando si guarda in alto perché questo gioco ha una grande enfasi sulla verticalità. Pensate che il nostro scopo all'interno del gioco è proprio quello di riuscire a scalare una specie di edificio enorme che sembra un mondo in realtà costruito in verticale e tant'è che all'inizio un NPC ci chiede ma tu ti ricordi a che piano siamo? Quindi ci sono vari piani e noi dobbiamo scalarlo, effettivamente. Quindi, grande enfasi sulla verticalità, grande senso di vertigine quando si ammira il mondo dall'alto verso il basso perché sembra veramente molto, molto vasto. Questa cosa a me è piaciuta tanto. Ovviamente la verticalità si traduce anche in degli elementi di gameplay. Cioè noi dobbiamo salire molto spesso e scendere delle scale o delle scale a pioli e usare l'arrampicata. Le scale sono scale normali le scale a pioli hanno una caratteristica molto particolare cioè sono molto, molto lunghe. Il che da un punto di vista prettamente estetico e di impressione mentre si gioca è una roba veramente interessante perché ti dà ancora di più quest'idea straniante e alienante di un posto che si sviluppa tantissimo in verticale. È disumano nella lunghezza delle scale nell'ampiezza degli spazi nell'altezza degli spazi. E questa cosa secondo me è molto bella. Il problema è che per scendere le scale siccome sono così tanto lunghe e non c'è un comando per poterle scendere super velocemente come accade per esempio in Bloodborne and the Ring e tutti gli altri e tutti i Souls-like e allora ci metti veramente tanto. Alcune scalinate quelle più lunghe ci si può veramente mettere una cosa tipo 45 secondi per farle tutte li ho contati sì sono matto 45 secondi solo scendendo scale sono troppo lunghi ragazzi. Queste scalinate ovviamente sono molto sporadiche non ne incontreremo tante però ci sono e quindi vanno segnalate. La sensazione poi straniante qua c'ho ovviamente i miei appunti per questo mi vedete ogni tanto guardare di qua che vivremo proprio quando giochiamo esplorando le ambientazioni e tutto il resto viene ulteriormente rinforzata dalla colonna sonora che è una bomba è veramente molto bella è varia ed è varia anche proprio nello stile si passa da pseudo musica classica a musica solo cantata con dei cori e si arriva poi addirittura al metal delle chitarrone molto pesanti e si passa anche attraverso l'elettronica quindi è molto strano come tutti questi generi differenti riescano a convivere e ad essere efficaci allo stesso modo all'interno di questo gioco ma ci riescono esattamente come l'ambientazione dark fantasy riesce a sposarsi bene con quella sci-fi allo stesso modo le musiche nonostante gli stili siano molto differenti riescono comunque a trasmettere sempre lo stesso mood la stessa atmosfera e questa cosa secondo me è veramente ottima perché appunto le atmosfere risultano spettacolari sono molto mistiche anche intense e come vi dicevo alienanti stranianti mi piacciono veramente la matti veramente veramente tanto però c'è da dire anche che a livello artistico nonostante mi piaccia lo stile la palette è molto limitata molto molto limitata e i nemici oltretutto quelli normali mob non sembrano essere troppo ispirati sebbene in realtà insomma vadano molto in accordo con l'ambientazione e lo stile del gioco in generale non mi sembrano però molto ispirati detto ciò comunque questa palette limitata potrebbe avere un effetto negativo su lungo termine io per adesso ho giocato 5-6 ore circa delle quali le prime tre le trovate perché le ho giocate in live poi ho giocato un po' da solo e quindi ecco potete rendervi conto del fatto che è tutto molto grigiastro e infatti pensando a Bloodborne che è uno dei miei oltretutto Souls-like preferiti se ha un difetto quel gioco secondo me è proprio nella limitatezza della palette di colori è tutto veramente sempre grigi nonostante artisticamente sia una bomba e il gioco farò un probabilmente che preferisco a livello artistico però ha questa limitazione che ho ritrovato anche in Bleak Fate Forsaken quindi queste erano le parti positive poi della mia analisi adesso passiamo ai contro che sono legati esclusivamente al sistema di controlli e al gameplay e ovviamente per un gioco avere un gameplay che non è all'altezza è un po' un problema ok qui state vedendo la prima boss fight che è molto figa secondo me oltretutto strutturata anche bene che dura da mezz'ora però vabbè ve la vedrete ve la godrete così allora iniziamo dicendo che il gioco è pensato per mouse e tastiera il che è assurdo perché tu mi fai un GDR d'azione e me lo fai pensato per mouse e tastiera è una cosa veramente pazzesca secondo me che non ha motivo di essere e in effetti se uno usa mouse e tastiera il tutto tutto il sistema di comandi sembra essere un pochino più responsivo ok quindi un po' più responsivo è usando mouse e tastiera però non è comunque ottimo ci sono anzi grossi problemi che lo rendono un sistema di movimento e di controlli macchinoso faticoso proprio e lento è difficile da giocare ma non nel senso che il gioco è difficile è proprio difficile fare qualsiasi cosa anche muoversi banalmente e allora rimaniamo sul sulla struttura del gameplay del combat anzi intanto qua vedete anche il menu e questo è il sistema di talenti che possiamo attivare di cui vi parlavo prima vedete statistiche perks e abilità e quindi rimaniamo sulla sezione proprio come funziona il combat system allora c'è un attacco leggero ci sono anzi un attacco leggero e un attacco pesante per l'offensiva e poi abbiamo anche parata perri e schivata per la parte difensiva io intanto ragazzi vi mando un po' avanti così magari potete vedere altre ambientazioni quindi ci sono queste due questioni diciamo quella offensiva quella difensiva il sistema offensivo si basa su delle combo che però questo sistema di combo non funziona molto bene non si capisce effettivamente quando bisogna premere il tasto per concatenare la combo sostanzialmente dovrebbe funzionare così tu premi il tasto dell'attacco che è il dorsale quello davanti premi il tasto dell'attacco e a un certo punto dovresti ripremerlo per concatenare una combo concatenare le combo significa che tu sprechi molto meno mana meno stamina scusate per continuare la tua serie di attacchi e oltretutto gli attacchi sono più veloci perché sono appunto concatenati il problema è che non si capisce quando bisogna premere non si capisce per varie ragioni che poi vi spiegherò il tempismo tipico dei souls volevano trasferirlo dalla difesa all'offesa no? cioè tu invece di dover essere bravo nel fare perri ad esempio nello schivare insomma invece di avere tempismo solo nel fare perri e nello schivare in questo gioco l'idea era che tu dovevi avere anche tempismo per attaccare che è una cosa molto figa il problema è che non funziona perché il sistema non è ben calibrato e non è nemmeno ben spiegato sinceramente infatti essendo difficile capire quando colpire quando colpire quando ripremere il tasto il sistema finisce per non funzionare perché è difficile capirlo perché c'è una brutta gestione secondo me delle animazioni e delle collisioni non è ottima e anche delle animazioni quindi è tutto un po' confusionario ok e in realtà dire confusionario in certe situazioni è un eufemismo anche se devo dire che nonostante l'impatto all'inizio sia sconfortante e dici porca vacca che gioco brutto in realtà piano piano ci si abitua ci si abitua e quindi questa difficoltà questa macchinosità legnosità viene un po' meno in realtà facendo esperienza del gioco è comunque problematica ed è comunque frutto di errori da parte degli sviluppatori che stanno venendo in realtà fixati perché stanno buttando fuori veramente una paccia al giorno a volte anche due però comunque ci sono dei problemi di fondo ci si abitua ai problemi ma ci sono i comandi sono in generale imprecisi e non troppo responsivi poi vedremo quando parlo della parte difensiva lì è veramente un po' un casino e oltretutto come dicevo la fisica dei colpi le collisioni non sono ottime e mi ricordano un po' quelle di Dark Souls 1 non so se avete presente però se c'hai una spadona gigantesca in Dark Souls 1 quando attacchi la sensazione non è così tanto soddisfacente come per esempio quando si attacca in Bloodborne o in Elder Ring ecco la sensazione è un po' quella leggermente peggiorata quindi non vi aspettate una fisica ottima dei colpi che è un po' un problema perché in un gioco come questo la fisica secondo me deve esserci e deve essere veramente ottima anche perché come vedete nonostante lo stile artistico ho detto che a me piace veramente tanto la grafica non è un granché però uno lo accetta anzi a me non interessa nemmeno che la grafica sia bruttina se però è supportata da uno stile artistico originale che c'è e da un gameplay accattivante che però manca purtroppo c'è c'è nelle idee ma poi nell'implementazione manca per questo vi dico aspettiamo perché le patch potrebbero correggere tanti dei problemi che ci sono all'interno del gioco parliamo adesso della parte difensiva parata perri e schivata la parata grazie a dio funziona basta premere il tasto fino a fondo fino in fondo e pariamo ci mettiamo così e pariamo il colpo abbastanza semplice il perri è un casino il perri si impunta e non parte perché il perri ha lo stesso tasto della parata e una pressione singola del tasto fa partire il perri che è un'animazione differente dalla parata è tipo questo e invece tener premuto il tasto fa partire la parata questo significa che se tu vuoi parare velocemente non puoi perché il tasto deve essere premuto per un po' per far partire la parata ok il gioco deve registrare che tu stai tenendo premuto il tasto se no non parte la parata e e quindi questo è già un problema secondo me perché la parata va prenotata prima non puoi reagire al volo e oltretutto non è la stessa azione no cioè sono due azioni differenti legate alla pressione di un singolo tasto quindi questo fa sì che a volte l'input della del perri non viene registrato non viene compreso bene proprio perché ma sta premendo una volta o sta tenendo premuto si chiede il gioco ogni volta che noi cerchiamo di parare o di fare perri e quindi a me veramente ragazzi lo ho contate mi parte una volta su 8-9 il perri una volta su 8-9 pressioni il che significa che il perri non è praticamente quasi utilizzabile questo con il pad devo dire che con il mouse la situazione un po' migliora anche se pure lì non è responsivo non si capisce le finestre di perri poi sono completamente sballate non si capiscono bene perché non devi premere quando l'attacco sta arrivando ma anche premendo in fase proprio di wind up cioè quando lui il nemico sta insomma tirando indietro la mano per caricando il colpo sostanzialmente a volte il perri parte insomma anche le finestre di perri secondo me sono sbagliate sono veramente sbagliate e quindi altro problema vogliamo parlare della schivata la schivata è un macello premendo una volta il tasto della schivata che su pc è la barra spaziatrice e su pad io l'ho rimappato su b perché non si sa che cavolo avevano fatto anche con la mappatura dei tasti tra parentesi piccola parentesi prendetevi quando lo prenderete non lo prendete adesso il gioco quando lo prenderete prendetevi una mezz'oretta per rimappare i tasti perché hanno fatto dei disastri secondo me anche da quel punto di vista quindi b io l'ho messo su b la schivata sul pad barra spaziatrice su mouse e tastiera è un problema perché per far partire la schivata bisogna premere due volte quel tasto con una volta parte una schivata alla bloodborne con due volte parte una rotolata che oltretutto è sbilanciata è super ti fa coprire una distanza ampissima in pochissimo tempo e questo inserito in un gioco che invece è così lento e macchinoso sa veramente di errore cioè ti dici ti fa pensare ok qui hanno sbagliato qualcosa effettivamente hanno sbagliato qualcosa secondo me andava un po' calibrata meglio sia in distanza percorsa che nel tempo in cui percorri quella distanza oltretutto dover premere due volte il tasto per farla partire è una roba che più scomoda secondo me non c'è più scomoda non c'è anche perché se vuoi fare due rotolate devi premere quattro volte in teoria ma non bastano perché molte volte succede che la coda di comandi non venga venga praticamente ignorata cioè se tu fai una cosa e poi ne fai subito un'altra quella seconda non va in coda e poi viene fatta automaticamente ma viene completamente ignorata quindi bisogna finire che bisogna aspettare che finiscano alcune animazioni per poter partire con il comando successivo solo alcune volte però non sempre quindi anche qui insomma veramente ci sono dei problemi abbastanza grossi a livello di gameplay per questo motivo io vi consiglio di aspettare e di considerare l'acquisto del gioco fra un paio di settimane quando magari saranno uscite tante patch e il gioco quindi sarà migliorato speriamo io sono anche in contatto diretto con gli sviluppatori ci mandiamo i vocali quindi io vi insomma vi aggiornerò anche perché lo continuerò a giocare e quindi voglio offrirvi questo tra virgolette servizio cioè io me lo gioco anche se fa cagare adesso e vi dico raga sta migliorando raga è migliorato compratelo non compratelo eccetera lo porto anche in live ogni tanto così potete vedervelo e possiamo parlarne insieme io vi ringrazio per aver visto il video so che è un video lungo ma spero che vi abbia dato un'idea del gioco vi ringrazio per essere stati qua e noi ci vediamo come al solito alla prossima ciao ragazzi